Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video vi spiegherò come completare la sfida giornaliera capre alpine squoiate in Red Dead Online Tutto quello che dovete fare è trovare e squoiare due capre alpine, dove si trovano? Apriamo la mappa e andiamo nei pressi di Tumbleweed, quindi teletrasportatevi a Tumbleweed e poi andate in alto dove c'è Rotskeller Fork Una volta che siete arrivati qui troverete almeno una capra, quindi potete catturarla, anzi dovete catturarla con il lazzo per poi ucciderla e squoiarla Per fare la sfida ve ne servono due, quindi una volta che avete fatto questa procedura con una capra, caricate nuovamente la partita e ripetete la procedura Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento